Inaspettato pareggio interno della capolista Juventus che è stata costretta a rincorrere con affanno un Cesena che ha confermato la sua qualifica di migliore provinciale del campionato italiano. I Romagnoli sono andati in vantaggio al 22esimo del primo tempo con Frustalupi nella telefoto che ha trasformato un rigore concesso da Gussoni per un fallo di Gentile su Urban. Al quarantesimo il Cesena ha raddoppiato in contropiede con Urban che ha raccolto un cross di Ceccarelli. La Juventus che presentava una difesa rimaneggiata per le assenze di Morini e Tardelli ha reagito in apertura di ripresa colmando il distacco in sette minuti, al quarto ha segnato Capello e al settimo ha realizzato Bettega di testa. Dopo due grossi salvataggi di Zoff su tiri di Urban e Danova il Cesena è tornato in vantaggio al 21esimo con Petrini che aveva sostituito Bertarelli su servizio di Frustalupi. La Juventus che ha contestato un paio di episodi nell'area di rigore cesenate ha pareggiato definitivamente a nove minuti dalla fine con Gentile su cross di Cucureddo. Ha diretto Gussoni davanti a 25 mila spettatori, angoli 9 a 5 per il Cesena.